L'importanza di una legge si misura anche sul lungo periodo e la legge 381, a 30 anni della sua approvazione, dimostra di essere ancora oggi una legge innovativa, concreta, vicina alle persone. Ringrazio le centrali cooperative per renderla ogni giorno vigorosa e attuale e per essere sempre a fianco delle istituzioni in ogni circostanza e avendo come unico scopo quello della tutela e della promozione umana. Grazie. Grazie.